Mercoledì di campionato per il Giron F di Serie D, oggi andrà in scena il 32esimo turno con tutte le squadre in campo alle ore 16, eccezione fatta per Tolentino-San Benedettese che giocheranno alle 18. Nello scorso weekend l'area canatese ha festeggiato l'ambito ritorno nel campionato di Lega Pro con due turni di anticipo grazie al distacco di 10 punti maturato sul Trastevere. Un campionato sempre in testa per i leopardiani che guidati dal capocannoniere Sbaffo, autore di ben 22 reti, non hanno mai messo in discussione il salto nel professionismo. A due turni dal termine la classifica generale è molto corta, tanti verdetti ancora in sospeso sia per la parte alta della classifica e sia per le zone calde. Per quanto riguarda i play-off in quattro punti sono raccolte ben sei squadre, infatti l'atletico Terme Fiuggi occupa attualmente la quarta piazza a quota 50 ed il Chieti Nono si trova a 46. Una lotta serratissima per disputare gli spareggi post-season, sicuramente un traguardo di prestigio per le società coinvolte. Allo stesso modo incerta è la lotta per evitare gli spareggi in retrocessione. Con Alto Casertano e Nereto già retrocesse da tempo, sia il Matese che il Vasso Girardi sono ancora coinvolte nella lotta salvezza. Il Matese attualmente occupa la prima posizione utile ad evitare i play-out a quota 42 in condivisione con il Castelnuovo-Vomano. Dopo la sconfitta interna contro l'Ari Canatese, gli uomini di Mister Urbano oggi pomeriggio affronteranno la già retrocessa Aurora Casertano. Un'occasione da non perdere per Galesio e compagni, visto l'avversario in grado di racimolare soltanto 7 punti in 31 partite con 19 gol fatti e 75 subiti. Sicuramente non sarà una partita semplice dal momento che l'Aurora Casertano giocherà con la spenseratezza di non aver nulla da perdere, ma il Matese ha l'obbligo di sfruttare la giornata di oggi per allungare sulle dirette concorrenti, tutti arruolabili per Urbano ad eccezione di Albanese squalificato. Il Vasso Girardi di Prosperi deve immediatamente ripartire dopo aver smaltito la delusione per il pareggio casalingo arrivato contro il Porto d'Ascoli. I gialloblu hanno sciupato un doppio vantaggio e sono stati raggiunti nel finale dalla squadra marchigiana, rimanendo in questo modo a quota 41 in classifica che vuol dire ad oggi play-out. Sui gol del Porto d'Ascoli tante le responsabilità dei molisani. Prosperi in settimana ha cercato di ricaricare le batterie per l'importante appuntamento di oggi. Il calendario offre subito l'occasione di ripartire, infatti l'avversario di turno è il già retrocesso Nereto, il quale arriva da ben nove sconfitte consecutive. Imperativo tre punti per Guido e compagni, una vittoria che permetterebbe di preparare nel migliore dei modi anche lo scontro diretto in casa del Fano.